Nella mia mente c'è questo Carlo che distrugge l'amore, ma in fondo all'anima c'è ancora spazio per un raggio di sole, un raggio di sole. Siamo qua ad Agusteo per lo spettacolo Porno contro Amore, stasera questa penultima tappa qui a Napoli, poi domani sera chiuderemo anche a Roma al Teatro Brancaccio, è stato un tour molto bello, partito da Torino il 10 aprile, un disco importante che spero di poter portare per tutto l'anno anche nelle date estive poi in giro per l'Italia e per il mondo e voi datemi una mano anche voi a fare la promozione. Assolutamente sì, ma è un titolo che stuzzica l'immaginario, perché porno al posto di sesso? Ma perché il sesso è una cosa molto più pulita che va d'accordo con l'amore, il sesso è chiaramente un elemento importante dell'amore, mentre la pornografia è un pochino più la parte più torbida, più sporca. In questo senso credo che pornografia e amore siano due cose diverse, anche se poi a volte se presa in dosi piccole anche la pornografia può dare una mano all'amore, ma come il veleno va usato bene, ogni tanto poco e bene insomma. E siamo qui con il pubblico dello spettacolo porno contro l'amore di Pupo, sentiamo, sentiamo gli spettatori, allora che cosa la spinta a venire qui a vedere questo spettacolo? Ma che, non dice niente? La tua è stata una carriera incredibile, un alternarsi di successi, ricadute e poi di nuovo risalite, ma esiste la parola equilibrio nel vocabolario della tua vita? Beh, adesso devo dire che in questo periodo sì, hai detto una cosa molto bella, la parola equilibrio è un vocabolo che è entrato a far parte delle parole della mia esistenza, fino a qualche tempo fa era più difficile, io ho avuto una vita molto molto sopra le righe, molto rock diciamo, però ho avuto anche molta fortuna, molta fortuna di poter oggi restare qui con serenità, proprio con equilibrio come tu hai detto, a raccontare un'esperienza con il lieto fine, la pornografia, l'eccesso nella mia vita sono in qualche modo superati, io adesso, speriamo che duri il più possibile, sono una persona, un punto di riferimento per chi cerca invece un consiglio, magari anche un raggio di sole, come dice la canzone porno contro amore, che ripeto, che ci tengo a dire, non è per niente porno, è solo una preghiera di un uomo disperato che cerca una luce e un raggio di sole, quindi io sono qui per questo e per farlo. Mi ascolto non è per niente porno contro amore, ma oggi speriamo il sonico disperso che te sfoga con te, quê prisonano millietera miserable, quindi lei è terraọweitco un ragazzo. Le notti frugando nel muro con l'asso di là Tra sogni di plastica e fuci del piano Infine il mio cuore Con me Da me C'è un gran viso di me Fuori dentro me Nella mia mente c'è Questo darlo che Distrugge l'amore Non riesco a ucciderlo E l'uscitore anche del mio dolore Del mio dolore Ed eccoci con Gigi Savoia Che vedrà lo spettacolo di Pupo Porno contro amore Buonasera 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 Stasera vado a vedere il grande Pupo In questo spettacolo Che sono convinto Che insomma Manterrà le promesse Lui è un grande artista E sicuramente mi divertirò E sarà piacere Per trascorrere un paio d'ore In sua compagnia A proposito di promesse Ma c'è un progetto Perché noi abbiamo Un caffè d'acqua Con Gigi Savoia Andato in onda È il periodo natalizio Con tre pecore viziosi Ma sto progetto va avanti Come? Progetto va avanti Aspettiamo un attimo Che finiscano gli impegni esteri Perché io adesso Stavo in Olanda Girando una serie televisiva Finisce la serie televisiva E riprendiamo Partiamo ancora più forti di prima Quando ritorni in Italia Sempre con il teatro Politeama Soprattutto con la compagnia Stabile di tradizione Certo Ora se il teatro Politeama Ci ospiterà Sarà il luogo deputato Altrimenti qualunque altro luogo Sarà interessante E utile per noi Per la compagnia Stabile di tradizione Composta da addirittura Ormai 95 attori giovani napoletani E certamente La location è un dettaglio L'importante è trovarsi La forza umana La forza umana è importante La location Noi siamo capaci di recitare Anche in piazza del plebiscito E non ti accorgere E non ti accorgere di quanto L'ottante eri tu Adesso ci siamo Ma adesso ci siamo Ma presto ti amo Non perdere un attimo in più Su di noi Su di noi ancora una volta Dai su di noi Di te non mi stacco mai Su di noi Ancora una volta Dai su di noi Di te non mi stacco mai Dai cumulative Dai su di noi Dai su di noi Dai su di noi Tu sei stato un grande giocatore, hai scritto anche due libri, ma nella vita si riesce a bleffare con la stessa naturalezza con cui lo si fa a un tavolo da gioco? Il tavolo da gioco è sempre un pochino più limitato a se stesso, anche se a volte la metafora del poker può essere ben adattata alla vita, perché se tu nella vita sai anche bleffare al momento giusto, sai anche fermarti al momento giusto, sai anche riconoscere quando è il momento bene o male di attaccare o no, allora diventi uno che in qualche modo la sa prendere l'esistenza, però il bleff nella vita ha le gambe corte, come si dice, nella vita bisogna essere veri. Ci dica che cosa ha la spinta a venire a vedere questo spettacolo, non si è capito, chiedo scusa, ripeta, ma non mi dica che è muto, che cosa è venuto a vedere a fare questo spettacolo, su, me lo dica, me lo dica, volevo dire perché è venuto a vedere lo spettacolo, mamma mia questo è sordo come una campana, lei parla? Sì. Ci sente pure? È italiana? Sì. Ah, meno male, ho trovato uno che mi risposta, perfetto, che cosa, che cosa l'ha spinta qui in platea, su. Allora, innanzitutto io sono una cantante, ho già avuto modo di conoscere Pupo, a Napoli prima e dopo lo saluto, ciao Pupo, io lo seguo sempre quando viene a Napoli e anche stasera non potevo mancare. Come si chiama? Federica Raimo. Benissimo, sono stato fortunato questa volta, una cantante addirittura, grazie. Sì, grazie, grazie a lei. Forza Pupo. Ok, forza Pupo. So che hai anche una gelateria a Ponticino, il tuo paese, una frazione in provincia di Arezzo, ma vendi solo gelati al cioccolato o c'è qualche altra specialità? Allora, gelato al cioccolato è una specialità, ma ci sono tutti i gusti, devo dire che sono buonissimi, stiamo già entrati a far parte delle top 10 gelaterie proprio d'Italia a livello di qualità, perché le mie due figlie sono bravissime a fare il gelato. Gelato al cioccolato, dolci al po' salato, gelato al cioccolato, un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, gelato al cioccolato. Rimani così, che dolce sei tu, l'occhiato di più. Profumo di fiori, di tibio, fa caldo ma qui si sta meglio, la sedia è più bianca stasera, ma dimmi che sei proprio bianca. Gelato al cioccolato, dolci al po' salato, gelato al cioccolato, un bacio al cioccolato, un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, gelato al cioccolato. Mi sarebbe disposto a salire di corsa tutta la ramba di scale in omaggio a Pupo? Sì. Lo farebbe? Mi faccio vedere. Di corsa? E' un'emozione, dai. Porno contro amore, per chi tifi? Amore. Non avevo dubbi su questo. Porno contro amore è anche un racconto, un racconto anche in queste città che noi abbiamo visitato, siamo partiti il 10 aprile da Torino, abbiamo fatto tutta l'Italia, domani chiuderemo a Roma. C'è questo percorso che ti racconta anche proprio le città d'Italia, ma io in questo percorso racconto soprattutto cosa è capitato a me, cosa è capitato a me nella vita. Ma attenzione amici di Nammi, lo racconto dal punto di vista, e non vi offendete se per tutti quanti, so che sarete felici, dal punto di vista di un uomo, di una persona che ce l'ha fatta, che ha vinto, che è uscito e che ha superato tutti gli ostacoli e che è uscito dall'inferno di molte dipendenze. Quindi oggi voi avete di fronte un uomo che è qui esclusivamente con la gioia di raccontarvi la storia del passato, non la storia del presente. I primi pendolari la mattina, quest'anno è forte la tua Fiorentina, la colazione con i bomboloni e il guai a chi parla male di Antognoni. Raggio di sole arriva il nuovo giorno, gente che va giurandoti un ritorno, perché a Firenze la mia parola non vedi niente una volta sola, Firenze è Santa Maria, novella e festa, per lui che va, per lei che resta, per un amore che ritornerà. Firenze è Santa Maria, novella scusa, spero di farti una sorpresa, quando la mia la mia canzone sentirai. Firenze è Santa Maria, novella scusa, spero di farti una sorpresa, quando la mia ha fatto veramente piacere incontrarti, dopo tanti anni, ma lavori sempre alla Rai? No, ho cambiato lavoro, poi ti spiego. Vuoi bevete questo caffè che è un caffè speciale? È un trincaffè questo qui. Un trincaffè? Buonissimo! Vediamo la nostra amicizia, va? Trin trin! Trin trin! Trin caffè, un brindisi da conto. Scusa Fè, ma questi narici... È perché io sono il rappresentante di trincaffè! È perché non me lo hai detto brindisi! Trin caffè, l'espresso top, speciale per bar, da oggi disponibile anche in cialde.